Sono qui per uno spettacolo dedicato tutto al sistema solare. Noi siamo cresciuti pensando che casa nostra è solitamente la nostra città, però poi dopo pian piano che cresciamo diventiamo consapevoli della nostra nazione e del continente in cui viviamo, per esempio l'Europa. Poi viaggiando magari ci iniziamo ad accorgere che in realtà non c'è solo l'Europa, ma un mondo intero da scoprire. Beh, io sono qui per raccontare che in realtà casa nostra non è solo la terra, ma è l'intero sistema solare. Casa nostra è anche Marte, la Luna, Giove, Plutone. Tutti questi posti sono la nostra famiglia di meravigliosi, strani posti intorno al sole. Penso che quando parliamo della cultura a volte pensiamo in termini passivi, che sia una cosa che noi prendiamo da fuori, quindi prendiamo un libro, lo leggiamo e quella è cultura. Oppure cultura è solo le nostre abitudini, quello che facciamo. In realtà cultura è una continua negoziazione attiva, è un po' come un fiume che non è fatto dall'acqua. Il fiume, se fosse fermo sarebbe un lago, non sarebbe un fiume. Quindi il fiume è tale quando scorre. La cultura è tale perché scorre e viene creata attivamente. Quindi il processo di avvicinare i più piccoli e le più piccole a questo mondo è un processo di continuare a far scorrere questo fiume. E penso che sia fondamentale per continuare non solo a passare la storia e le idee che abbiamo elaborato, ma anche per creare le condizioni giuste affinché non ci siano ostacoli che blocchino questo fiume e che loro possano continuare a scorrere con nuove idee ancora più grandi per il futuro. Non morire, noi siamo l'unico modo che l'universo ha per potersi capire, guardare. L'universo è fatto di atomo, giusto? Tutto quanto, dalle stelle, le nebulose, i pianeti, tutto quanto è materia. Quindi noi siamo l'unica forma di materia che aggregata in questo strano mondo riesce ad avere pensieri riguardo a tutto quanto. Immaginate un po' come il vostro cervello che pensa a chi siete, e quindi guardando le vostre mani vi riconoscete, noi siamo così come parte dell'universo. Quindi la notte, quando guardate le stelle, in realtà non siete voi che guardate l'universo, è l'universo che si guarda e cerca di capirsi, si fa domande riguardo a sé, e per farlo a un breve istante di vita appena. E da fuori, in mezzo, tra le stelle, potrebbero esserci infiniti piccoli bandioni che si accendono e si spengono, di farne di vita senziente, là in mezzo, tra qualche puntino, che per un breve periodo iniziano la loro esistenza, si guardano intorno, sono curiose, scoprono qualcosa e poi riscompaiono. Noi siamo uno di quei puntini, e più tempo passiamo nell'universo, più cose l'universo scopre di sé. Quindi meravigliatevi e siate un universo meraviglioso.